Buongiorno, benvenuti a Studio 24. Il nostro titolo d'apertura è Buone Notizie, riferimento ai dati comunicati ieri dalla protezione civile. Ovviamente parliamo della diffusione di Covid-19 nel nostro paese. I dati della giornata di ieri dicono che gli attualmente positivi sono 108.237. La buona notizia è che ci sono per la prima volta da quando Covid-19 è arrivato nel nostro paese delle persone malate, attualmente malate in meno, 20 nello specifico. Diminuiscono anche le persone ricoverate in terapia intensiva, 62 in meno da ieri all'alto ieri, così come più in generale i ricoverati negli ospedali. Allora, partiamo da questi dati con Dario Manfellotto, il presidente dei medici internisti. Professore, buongiorno, benvenuto a Studio 24, ben trovato. Grazie, buongiorno. Con quanta cautela dobbiamo prendere quelle che noi abbiamo definito Buone Notizie, quei 20 malati in meno, quel segno negativo per la prima volta che vediamo? Sì, come veniva segnalato ieri dall'unità di crisi del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, c'è effettivamente per la prima volta un segno negativo. La cautela è necessaria, la cautela è indispensabile perché, diciamo sempre, non possiamo mollare assolutamente la guardia. Bisogna essere attenti, bisogna mantenere tutte le procedure che sono state portate avanti fino adesso, il distanziamento, l'attenzione, le cautele nei contatti interpersonali, il lockdown. Ecco, questo ha portato questo iniziale rallentamento del fenomeno dei contagi progressivi. Senta, professore, le vorrei chiedere questo. Oggi sono due mesi dalla prima vittima e ci andremo a voi Uganeo, nel Padovano. Due mesi un giorno dal primo caso, almeno di quelli conclamati, diciamo, di Covid-19. Poi abbiamo capito che probabilmente questo virus è arrivato nel nostro paese con qualche settimana d'anticipo. Mi dice come si è terremotato e rivoluzionato il vostro lavoro in questi due mesi? Questa è una bella domanda e la ringrazio anche perché effettivamente il lavoro è completamente cambiato. All'inizio noi avevamo un'attenzione che era quella riservata alle malattie infettive e alle malattie infettive che dovevamo necessariamente isolare in camera singola facendo attenzione a non contagiare correttamente un paziente negativo con un paziente positivo. Poi a un certo punto abbiamo avuto un enorme numero di pazienti. Quindi abbiamo abbandonato il concetto dell'isolamento singolo e siamo arrivati all'isolamento, come diciamo noi, di coorte, cioè un gruppo di pazienti con la stessa infezione che condividono lo stesso reparto. Poi il numero è aumentato e siamo arrivati a quella che chiamiamo la logica sanatoriale, i vecchi sanatori di un tempo, quelli che appartengono alla storia della medicina, in cui interi i padiglioni dedicati ai pazienti con infezioni. Questo è cambiato dal punto di vista proprio strutturale, organizzativo. Per quello che riguarda il nostro lavoro è stato davvero impattante. Intere squadre di medici e infermieri dedicati soltanto a questi pazienti e una incredibile riduzione di tutte le altre patologie, di tutti gli altri malati che affluivano ai pronto soccorsi, che noi ricoveravamo e che sono drasticamente diminuiti. Dove stanno? Stanno molti nelle loro case, molti in contatto telefonico con noi. Alcuni li facciamo venire comunque in ospedale perché hanno urgenze non differibili e abbiamo delle visite da fare, i pazienti oncologici devono proseguire le loro terapie, però sicuramente la pressione dei malati cronici, che sono almeno 15 milioni in Italia, si è molto ridotta sui nostri ospedali. Professore, la vede la luce in fondo a questo tunnel che abbiamo iniziato a percorrere due mesi fa e se la vede quanto è forte o quanto è tenue? No, la vedo. La luce sicuramente la vedo. Io sono così naturalmente un ottimista. La vedo, però sono anche cauto. Sono cauto alla luce dell'esperienza, alla luce delle conoscenze, di quello che stiamo acquisendo, di quello che stiamo conoscendo. Ripeto ancora una volta, si fa presto poi a stappare la bottiglia di champagne perché sta finendo l'epidemia, ma a ricominciare poi con i problemi. Dobbiamo mantenere la calma. La luce c'è, però dobbiamo fare in modo che non caschi nuovamente la nebbia. Senta, professore, lei ci ha raccontato in queste giornate, è stato più volte nostro ospite, le situazioni negli ospedali, lo sviluppo dell'epidemia. Noi l'abbiamo seguita e vi abbiamo seguito con quei dati che sono parziali, che hanno quel di più di incertezza che è legato al numero dei tamponi, come ben sappiamo. Ogni volta ci ricordate di guardare il settimanale e non il giorno per giorno. Poi però c'è un pezzo di mondo, un pezzo d'Italia, professore, che ragiona sulla ripartenza, sulla fase 2. C'è una data, quel 4 di maggio. Ecco, lei come lo guarda quel 4 di maggio? Ma sa, io non sono un tecnico di questi aspetti. Io faccio il medico, faccio il clinico, dirigo un dipartimento di medicina interna, faccio incidentalmente anche il presidente degli internisti ospedalieri italiani che stanno affrontando in prima linea questa emergenza, come mi piace ricordare sempre. Quindi io non mi permetto di intervenire sulla fase 2 della ripartenza delle aziende, delle industrie, delle attività commerciali, o di tutto quello che rappresenta il tessuto e l'economia del nostro Paese. Io posso parlare per quello che riguarda gli ospedali, se mi permette. Quello che riguarda gli ospedali è necessariamente una riapertura graduale di strutture che sono state parzialmente chiuse e quasi totalmente dedicate a pazienti infetti conclamati o in fase di valutazione. Esistono per esempio i reparti dei Covid sospetti, nei quali ci vuole una grande cautela perché vanno chiariti se c'è l'infezione o meno e fino al momento in cui non viene esclusa l'infezione questi pazienti devono essere considerati come sospetti. Allora, dal 4 maggio, data ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per una possibile fase 2, che cosa succede negli ospedali? È chiaro che noi negli ospedali dobbiamo garantire dei percorsi come diciamo noi puliti. Cioè il paziente che arriva in pronto soccorso ed è sicuramente un paziente nel quale l'infezione non c'è stata dobbiamo verificare lo stato al momento dell'ingresso in ospedale quindi ci sarà necessità di fare esami al paziente che arriva in pronto soccorso o al paziente che deve essere chiamato da casa per esempio per un intervento chirurgico verificando il suo stato nei confronti dell'infezione virale. Quindi io credo, però in questo non posso anticipare quello che dirà il Ministero e diranno le regioni che saranno identificati a livello delle regioni su indicazione ministeriale, dei percorsi in cui si dice tu paziente arrivi perché devi fare un intervento chirurgico prima ti faccio fare certi esami per verificare tampone, sierologia, verosimilmente i due esami integrati per verificare il tuo stato di infezione o meno e a quel punto posso ammetterti in ospedale per intervento chirurgico senza rischio di contattare gli altri altri pazienti che arrivano in un'urgenza lo stesso tipo di atteggiamento e lo stesso tipo di cautela che deve essere presa nel mettere all'interno di una corsia dove ci saranno tanti altri pazienti non infetti. Chiarissimo professore, poi torno da lei tra un secondo anche sul percorso per l'appunto come ce lo stava dettagliando abbiamo toccato il tema regionale un paio di volte volevo sentire il professor Manfellotto perché professore questi sono i dati del Ministero della Salute quelli che si possono trovare anche sul sito internet alcune regioni hanno aumenti di positivi che variano dallo zero della Calabria della Basilicata e della Valle d'Aosta al 13 ad esempio della Sardegna e si passa per l'1 dell'Umbria e quant'altro come lo spieghiamo a un cittadino umbro tipo quello che le sta facendo la domanda che i bar della sua regione devono restare chiusi che c'è il distanziamento sociale con un positivo al giorno ed ormai da diversi giorni che è così Ci sono differenze fra le regioni notevoli sicuramente c'è una differenza nord-sud molto forte certo il dato della Val d'Aosta rispetto al resto del Piemonte è significativo però ci sono dei criteri oggettivi che devono essere seguiti si potrà riaprire la fase 2 quando questo famoso calcolo della contagiosità e il numero o la tendenza degli aumenti sarà veramente in discesa e tutte le proiezioni statistiche che vengono fatte sulla base dell'andamento dei dati saranno in riduzione però se lei mi consente io vorrei dire una cosa sui dati ancora quelli che sono stati presentati ieri perché abbiamo detto meno casi meno pazienti in terapia intensiva più pazienti a casa i morti che ci sono si stanno analizzando al Ministero e all'Istituto Superiore probabilmente le persone che ancora muoiono sono quelle che purtroppo per loro e dispiace sono da più tempo in rianimazione in terapia intensiva magari intubati e quindi muoiono per le complicanze di un lungo periodo di terapia intensiva e di intubazione ma un altro dato molto importante l'ha segnalato ieri Dottor Borrelli che dei 1.300 e passa tamponi che sono stati fatti e sono positivi non vuol dire che siano 1.300.000 casi i casi sono poco più di 900.000 perché il fenomeno al quale stiamo assistendo è quello di ripetere i tamponi soprattutto in casi che hanno un andamento lento in cui la negativizzazione del virus è più lenta e molto graduale dobbiamo ripetere i tamponi e quindi abbiamo un numero di tamponi molto superiore rispetto al numero reale di casi quindi i casi documentati positivi in Italia sono 930.000 chiarissimo molto chiaro professore saluto il professor Manfellotto al quale chiedo solo una cosa professore due mesi fa pensava poteva immaginare che avrebbe lasciato questo disastro covid-19 quando è arrivata la notizia del primo caso in Lombardia a Codogno e poi la prima vittima a Varugano c'era qualcosa che lo poteva far comprendere francamente no con questa entità devastante sicuramente no e credo come tantissimi quasi tutti non avevamo idea che potesse esplodere una tempesta così forte come qualcuno dice la tempesta perfetta credo che nessuno se lo sarebbe immaginato in quel momento professore grazie anche per l'onestà perché oggi sarebbe stato facile dire avevamo previsto tutto era chiaro fin dall'inizio grazie molto professor Manfellotto per essere stato con noi